Sienzo la mascotte di questa piazza è Giulio Zollo che praticamente è un giovane produttore, figlio di un produttore, prova a intraprendere l'attività del padre però mi diceva se andiamo di questo passo la situazione è davvero difficile e bisogna cambiare strada, giusto Giulio? Come dicevo io, come diceva Michele, io volevo intraprendere l'attività di mio padre però con queste condizioni oggigiorno non è possibile, anche fare domande e cose non ti danno contributi, la domanda passa dopo anni e ti ritrovi che poi sei fatto grande e non puoi più, gestirla come vorresti. Il raccolto di quest'anno Giulio com'è andato? Su quest'anno io che ci vivo con mio padre abbiamo avuto un calo molto significativo, abbiamo fatto una produzione del 20% e non si riescono a pagare neanche le spese effettuate nei propri territori, quindi quest'anno è stata proprio tragica, ho visto con i miei occhi tirarmi un po' indietro perché andando così non si può concludere niente. Che servirebbe a voi giovani per restare qui e quindi intraprendere queste attività? Che vorresti come giovani? Magari per invogliarci a intraprendere queste attività vorremmo un contributo, un aiuto fondiario, magari come attrezzature, gestione di terreni, un'opera istica più alla mano. Controlli non molto oppressivi riguardo alle polveri, i fumi e i rumori rilasciati dai macchinari perché è proprio un problema. Arriviamo vicino a delle abitazioni, sì sono fastidiosi, però è un mese all'anno e arrivano i vigili, ti fanno togliere le mani, ti mettono vingoli, degli orari proprio fuori dal normale, dalle 9 di mattina a mezzogiorno, dalle 3 alle 5, nel medio del raccolto. O magari fai un po' di polvere in più e ti vengono a fare un verbale, più una causa penale. Si parla che è meglio a questo punto andare a rubare, lavorare un terreno.